L'Ucraina diventerà un membro della NATO a condizione di attuare alcune riforme dopo la fine della guerra. Questa è la promessa fatta dal segretario generale dell'alleanza militare Jens Stoltenberg che ha poi parlato degli aggiornamenti in merito alla guerra con la Russia. Avdivka, un ex polo carbonifero nella regione orientale di Donetsk, è diventata il simbolo di una guerra logorante in cui né l'Ucraina né la Russia hanno fatto decisivi passi avanti in più di un anno. Qui un pesante attacco russo lo scorso fine settimana ha costretto le forze ucraine a retrocedere. Intanto a Kiev il presidente Zelensky ha rimproverato alla Russia di aver causato enormi problemi di navigazione bloccando i porti ucraini per l'esportazione del grano. Il presidente ha parlato alla 33esima assemblea dell'Organizzazione Marittima Internazionale. Nel frattempo il maltempo ha causato dieci morti e sta ostacolando il trasporto di generi alimentari. 1,9 milioni di persone sono al momento senza elettricità tra Russia e Ucraina, in Crimea e in altre regioni occupate dell'Ucraina e della Moldavia.